Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, oggi abbiamo una schiena nuova che si offerta volontaria, e andiamo a fare un po' di robine che adesso vi spiegherò, e state pronti? Anche la parla in cui faremo tracing sul tatuaggio, e se vi piacerà ditemi se vorreste un video dedicato al tracing su dei tatuaggi, linea 6, 7, 6, 6, 6, e niente, adesso vi faccio un po' vedere, e godetevi il video, ciao! Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, oggi, come davo richiesto, un altro video massaggi, questa volta abbiamo una schiena diversa come vedete, anche solo il tatuaggio, oggi faremo un po' di back scratching, quindi un po' di grattini con le unghie, poi un po' di grattini con le grattaschiena, in questo modo, mi piace molto quando si va verso il collo, anche così, poi, visto che ci sono già i segni della prontatura, andiamo a mettere un pochino di cremetata, e poi, ovviamente, andiamo a fare un po' di brushing, come questo tipo ventagno, super morbido, che secondo me è perfetto, quindi, io direi che possiamo cominciare, e cominciamo con un semplice micromassaggio, anche verso il collo, anche verso il collo, che sto tagliando un po' di pelle, anche io, vedete, anche io, sin nella fondatura, e dopo farò anche un pochino di tracing qui sopra, perché è un potuto da ricalcarlo, non posso non approfittarne, lo vedrete, ma scritto pantare qui, e poi anche delle farfalle qui sotto, non lo vedete? Ok, partiamo con, proprio applicando pochissima pressione, qui, e poi scendiamo, qui, e poi scendiamo, mi piace tantissimo anche seguire la colonna vertebrale. Prendiamo il primo pennello, e partiamo dall'alto. e andiamo lentamente, con una spalla, lentamente, lungo un'altra. ti vedi un brividino? si andiamo su, e giungo il tatuaggio. e poi lungo tutta la schiena. non sto applicando la pressione, in modo che, sia un mezzo massaggio, un mezzo solidichino, trassante. e ancora lì prendiamo dal collo. quindi facciamo la stessa cosa. partiamo dall'altra spalla. partiamo dall'altra spalla. partiamo dall'altra spalla. Grazie E adesso vediamo se ora ne metterò un po' di crema qui sopra Allora Adesso prendo questa crema che è al tè verde, che è un tipo di luce Che ha un odore anche molto bello ed è abbastanza corposo, non troppo ma neanche troppo di olio E partiamo con un pochino e poi in caso ne aggiungiamo Toglio tutti i capelli E comincio a spalmare C'è un amore tonto di più C'è un pochino C'è un pochino C'è un pochino E poi sotto C'è un pochino E dall'altra parte C'è un pochino 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 una di capelli io sono strafissata con questo punto perchè è uno dei punti che mi allassa di più proprio tipo qui sia qui che qui qui poi pian piano andiamo giù la parola in mezzo e per l'altra parte questo è letteralmente tipo la schiena oppure secondo me può essere usato anche quando si ha un gesso e si si fa irattare da qualche po' che non fosse mai capitato ma mi faceva un pro rito e adesso un po' a casa apriamo un po' di onne e ancora una altra volta e ancora una altra volta qui si e ora adesso per concludere vi faccio il tracing sul tatuaggio e poi la buonanotte ok adesso andiamo adesso andiamo a fare del tracing preciso sul tatuaggio con questo prezzino che in realtà è per fare le punte dello smalto bello complicato bello complicato che cos'è è una lingua esotica la legge mi dice una specie di sottolingua del polinesiano tailandese la faccia di sottolingua ed è un auguri di buona vita in 1,2,3,4,5 campi diversi come amore lavoro immagino giusto famiglia è stranissimo provare a capire non so come anche sia composto una parola o una lettera perchè è totalmente diverso rispetto al nostro profeta terza terza ad esempio secondo voi questi qui sono di questa riga di questa soprattutto questi qui non so ok in modo delle g delle s delle m due andiamo al quarto andiamo al quarto questo è un cuore e un cuore un cuore questo è un cuore questo è un cuore e ed ecco qua fatto ok direi che è giunto l'ora di direi a abbassare le luci e a curarti a curarti a curarti a curarti a curarti o o o no 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 e e soni d'oro o o o o o good night buon buon no 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 buon no 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 buon no 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 buonanotte pastigini un bacione un bacione te li spero un bacione pissi